bene un po' a brizzo questo cazzo né una né l'altra non posso dire volarvi bene perché lo direi di pochissime persone con cui ho condiviso tante cose nella mia vita ho condiviso pochissimo e non lo odio anche se è un collega virtualmente anche competitor no nel periodo in cui mi flammavo mi stavo sicuramente più sul cazzo ma in vita mia ho odiato solamente Jitsuke per un mese e poi basta a me odiare fa bene alla performance ma andiamo a odiare sempre forse anche Tore ho odiato si ti dava il boost quell'odio ora sei senza motivazione mi sto impegnando la direzione è questa non ho nemmeno l'obiettivo so solamente quello che voglio fare impegnarmi e direi che si vede potremmo giocare Lucian Namist game se loro giocano Jinx Milio è male ci credo comunque Blitzkan ci abbiamo pure ragazzo ci manca Will H AP Grag maybe top Opla arrivo grazie 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 a tutti. 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 Muore comunque. Facciamo il Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Questo è un bel lavoro Oh, grande Qui c'è Per torretop herald Questo è un bel lavoro Gran lavoro Che devi poterlo fare Io voglio assolutamente Questo Quello muore Beh, era importante questa kill Perché ci garantisce la torre top Mamma mia Ragazzi All night Vediamolo subito a Grace Perché stiamo giocando What kind of fucking game is this? Questo è un random, eh Abbiamo proprio che ha creato male male Non c'è uno che è meno confabbro Andiamo di 900 adesso Giusto, giusto i soldi Poi lo regoliamo Che ho già preso 950 Allora, non ho le pink Però non può Giappare una roba Non mori più Ci uccide credo Kai'Sa Ma anche Kai'Sa Sta buildando a D Lei si Non lo so Forse un po' che qui lo fa Giappare un po' che lei Giappare un po' che lei Il game è facile, eh Vediamo il resto a lui Non mi ho trollato Potremmo ammazzare Olaf Se le volevo Non siamo allineati Luciano Ho abitato un po' di Jinx Perché non so che no Aia Siamo a giocare per questa cosa qui Sbaglio dopo c'è la botte La mid lane Gridi quello Questa l'altro l'abbiamo spiegato Vabbè Ma dove viego Come cazzo che bravo Era importante grabarlo Ma io non muoio Anche se a pari da capo che vio non c'è perché l'ha messa da prima Grana bar drake Posso non pagare il cazzo in qualche maniera Abbiamo un tp Se c'erano è troppo Jinx uno l'ha amato Sono rimasto e credo che sia corretto Che c'erano Che c'erano di Jinx Che c'erano Che c'erano di Jinx Posso andare? Non muoio perché non c'è l'ex bash E di un gridi O che si vede o muore Pagg da Abbiamo mille Pagg da Pagg da Pagg da Pagg Non capisco perché non so Rendo Sono venendo massacrati Poteva finire male 10 anni po' Prost Ora io sono immortale Mi ammazzo ovviamente Kite Ci facciamo un pezzo di MR A vista non me lo farei Facciamo il log E siamo coperti 1 e 2 Vediamo il netto a Lucian Ok il netto L'ho giustato Non sa cosa per te Di solito è uno di quei item Che ti dimentichi di dare Di dare magari no Ma di ridare si Si può giocare Tipo Non aver fatto questo errore Per me è huge Io qui se tiro un grab Parito il game Uno ci deve morire qua Di solito Ah ma di avicare non puoi più. muoio da QV angolo troppo stretto ah non fight inizia malissimo comunque qua c'era il magico existence mi dice che muoio la voglia prende che fanno male al cuore mi sarebbe anche il drago volendo ciao paulone ti voglio bene non chiede che bello sta lì chi è? ma la mia inizia ragazze 27 metri schiii prima per questo prima per questo prima per questo oh credo deve morire non sanno di me mi piace la mia inizia i amici mi piace parece ma la mia è è è è è Ahia Non mua Minch Io muaio se mi vuol Cos' io non mi vuol farlo più di nuovo Gran game Questo cagato male Bello eh Bello bello Sono proprio contento Stiamo salendo